Con Nino Raffa, il Parma con il Lecce ha riuscito a rimontare due gol nel finale, nel corso di questo secondo tempo il Parma che conduceva 3 a 1 alla fine si è fatto rimontare dal Catania, risultato 2-3 a 3 nel giro di tre giorni per il Parma, ovviamente se il primo poteva essere un punto guadagnato, il secondo come diceva Colomba sono due punti persi. Beh, posso ripetere quello che ho detto in tutto il calcio, in chiusura, contro il Lecce il Parma è stato salvato dalla paura di perdere, contro il Catania invece è stato frenato dalla paura di dircele perché aveva fino a un quarto d'ora dalla fine il risultato in buco. Ho espresso anche l'opinione che è stato il rigore trasformato da Lodi a cambiare l'inerzia della partita perché quel rigore ha dato fiducia al Catania, rigore nato da una ingenuità di Santa Croce ed ha messo paura al Parma che poi nel finale ha subito il 3 a 3. riflessione in chiave natalizia, ci sarà molto da lavorare sulla difesa perché una squadra che ha due meci point in casa, due partite interne contro avversari e tutto sommato abbordabile alla sua portata, è vero che ha fatto 6-0 ma è anche vero che ne ha preso 6 e su questo ci sarà molto molto lavoro. Quindi paradossalmente in tanti chiedono un attaccante e invece c'è da riflettere sul reparto arretrato. Sì, che evidentemente va in affanno e incappa in qualche ingenuità. Per quanto riguarda il reparto attaccante, io ho rivisto bene dopo tanto tempo Floccari, si è mosso discretamente, ha aiutato la squadra a salire, è stato bravo nelle sponde ed ha anche fatto un bel gol. Direi che appena recupera al 100% è sicuramente un elemento in più, un'arma in più a disposizione di Colombo. Le preoccupazioni maggiori, ripeto, sono quelle che riguardano la fase difensiva perché per fase difensiva bisogna intendere non solo il rendimento del reparto arretrato, del pacchetto difensivo in sé, ma tutti i movimenti di insieme che la squadra fa quando è l'avversario ad avere il possesso. E su questo bisognerà anche lavorare per il tempo. Quindi sarà un periodo di feste ma anche di lavoro. Ma anche di lavoro e di riflessione, senza fasciarsi la testa perché questo Parma si può tirare fuori dai pasticci, direi, abbastanza prima che finisca il campionato. Buone feste. Augurissime. Grazie a tutti. Grazie a tutti.